Salva guardare la memoria storica del nostro paese tramandandola alle nuove generazioni con un linguaggio semplice e accattivante. Questo in sintesi l'obiettivo che l'Assessorato alla Cultura del Comune di Putignano si è prefissato con la pubblicazione di questo libretto a fumetti destinato ai bambini più piccoli e ai quali è stato distribuito gratuitamente tramite le scuole. Il volumetto intitolato Putignano e il tesoro di Santo Stefano racconta la storia di come Santo Stefano protomartire sia divenuto il protettore della città del Carnevale. Al suo interno le pagine disegnate dallo scenografo e artigiano putignanese Danny Bianco noto per essere uno dei maestri cattapestai più giovani del Carnevale di Putignano oltre che vincitore di tante edizioni. Le illustrazioni sono accompagnate da brevi testi elaborati dalla professoressa Emanuela Elba che costituiscono i dialoghi dei personaggi su cui si sviluppa la storia. Il volume rientra nel progetto comunale intitolato Le carte raccontano e sarà a breve disponibile anche nella versione ebook digitale gratuita.